Buonasera a tutte voi, a tutti voi, benvenute e benvenuti stasera qua al Maxi. Spero di non deludere nessuno sostituendo la Presidente Giovanna Melandri che purtroppo sta poco bene quindi non è potuta essere qui stasera con noi, so che ha sentito poco fa anche Gregorio Botta per scusarsi e mio tramite rinnova a tutte voi, a tutti voi la sua richiesta di scuse e soprattutto il suo benvenuto per ciascuno di voi qua al Maxi. Vedo molti volti noti e quindi mi fa piacere riscontrare che le iniziative che portiamo avanti nella loro diversa e variegata natura possano ormai contare su un pubblico nutrito ma soprattutto fedele e costante che quindi ci conferma diciamo così nella bontà di questo cammino, di questo percorso che ci consente di fermarci costantemente a riflettere sui tanti tesori che l'arte moderna e contemporanea ci pongono davanti. Stasera lo facciamo sicuramente con un testo nel nostro percorso di talk sui testi al Maxi un testo affascinante e seducente non soltanto perché è dedicato alla biografia, alla vita, all'opera sicuramente di uno dei più grandi come si dice oggi con un termine un po' abusato, iconici, artisti del novecento che sfugge come la quarta di copertina stessa dice a, diciamo così, inclusioni di categoria troppo stringenti. Ma riflettiamo sulla vita di Paul Klee nelle pagine di una biografia scritta da Gregorio Botta che è sicuramente una delle penne più lucide, più chiare, più affascinanti che abbiamo nell'analisi, nell'indagine e nella ricostruzione di quella che sono i percorsi dell'arte, degli artisti, delle tematiche di nostro interesse. E ancor più affascinante sicuramente sarà il dibattito di stasera perché ad introdurre, a discutere di questo libro edito dalla Terza e voglio ringraziare anche Giuseppe La Terza che è qui con noi stasera e ricordare a tutti voi che il libro è già in vendita anche presso il nostro bookshop qui al Maxi, oltre che in tutti gli altri punti raggiungibili. Dicevo, a discutere di questo libro stasera non c'è soltanto l'autore che è un nostro amico assiduo, oltre che essere artista che è presente nelle nostre collezioni, ma con lui c'è il professor Vittorio Lingiardi che è noto psichiatra e psicanalista che da sempre, diciamo così, affronta anche le tematiche dell'arte offrendo uno sguardo particolare, un punto di vista specifico, seducente e affascinante sull'arte, sugli artisti e sulla letteratura che intorno, diciamo, vi è cresciuta. Quindi non voglio veramente rubare altro tempo, è per me un piacere, io sono tornato da pochi mesi qua al Maxi come segretario generale, dopo esserci stato oltre tre anni, diciamo così, insieme a Giovanna quando fu chiamata nel 2012. È un piacere stasera ritornare qui e ritrovare due persone, due amici che, diciamo così, incrociato in momenti diversi nella vita, Gregorio e Vittorio Lingiardi e tanti di voi. Quindi non voglio veramente trarre altro tempo ringraziando ancora una volta l'autore, i nostri ospiti, l'editore, ma soprattutto tutti voi e tutti voi che con la vostra presenza assidua, come dicevo, date ancora più e maggiormente un senso e un valore ai nostri lavori, al nostro lavoro, al nostro essere una comunità che si incuriosisce, si interroga sui temi dell'arte. Grazie ancora e buonasera. Buonasera, è un grandissimo piacere presentare questo libro di Gregorio Botta, al quale credo come lettori, quindi vi consiglio caldamente di leggerlo, dobbiamo molta riconoscenza perché è riuscito a fare un'operazione rara e a mettere insieme la sua grande competenza, la sua grande conoscenza di storico dell'arte, ma anche la sua anima di artista e la sua penna notevole. È un libro scritto molto bene ed è un libro fatto molto bene, sono contento di poterlo dire direttamente all'editore perché il dialogo inevitabile quando si parla di un libro su un artista tra le parole e le immagini, tra il testo e le immagini è impeccabile perché, come vedete, non ci sono gli inserti che spezzano la lettura. C'è un continuo dialogo tra il racconto, il discorso, le riflessioni che fa Gregorio Botta e le immagini delle opere di Paul Klee. E questo tema, scrittura e figura, già è un tema kleeiano, come si scrive, come si dice, nel senso che abbiamo tutti nelle orecchie una famosa definizione di un grande critico che diceva che se Picasso affronta il muro, Picasso lavora sul muro, Klee lavora sulla pagina e quindi lo stile e l'ispirazione di Paul Klee sono molto legati a quella che è anche la scrittura e la narrazione. Oltre al fatto che Klee scriveva, ha scritto per tanti anni dei diari ed è estremamente interessante anche il racconto dell'opera di limatura e di editing che faceva sui suoi stessi diari, non perché fosse intenzionato a pubblicarli, ma perché faceva fatica a pensare di lasciare qualche cosa non a un suo stato di perfezione. Questo è uno dei corridoi psicologici che prenderemo più avanti. L'altra cosa, secondo me, molto importante che emerge da questo libro è come la vita personale, l'aspetto biografico, l'ispirazione artistica, il contesto di crescita e anche il tormento, in più parti dissimulato da Klee stesso, si intreccino in una storia estremamente affascinante di una figura veramente grandissima del nostro novecento, anche un bellissimo uomo, se guardate in copertina. Io partirei dai titoli, dal titolo di questo libro che è Genio e Regolatezza e dai titoli delle opere di Klee, che non sono mai dei titoli casuali o non sono mai dei titoli neutrali, sono sempre dei titoli scelti che accompagnano, ecco vedete, con una forma linguaggio l'accesso poi alla forma immagine. Perché Genio e Regolatezza? Secondo me questo libro che è abitato da tre o quattro idee nuovissime, originali, che non avevo trovato in altre cose che ho letto di Klee, tra l'altro tra i meriti di riconoscenza insomma che ti devo, dopo per avermi fatto leggere questo libro, Gregorio, è che anche mi hai spinto per lustrare la mia libreria di casa, la mia biblioteca e andando a trovare questa vecchia edizione delle sue poesie. E allora forse anche sì, per prendere confidenza con il pittore che era anche musicista, che era anche scrittore, che era anche poeta, ha avuto una grande educazione musicale. Partiamo da quello che c'è scritto sulla sua tomba, è un verso, sono quattro versi da una sua poesia e dice così, qui sono inafferrabile, abito bene con i morti come con i nonnati, sono vicino alla creazione eppure non abbastanza. Ecco, tra le tante, insomma, le due grandi idee del libro di Gregorio Botta da cui vorrei partire, una riguarda il rapporto tra Genio e Regolatezza e l'altro riguarda questo essere in sospensione, inafferrabile, un corpo difficile da catturare perché, come lui stesso in qualche modo ha detto, diciamo già uomo non ancora angelo. Partiamo da Genio e Regolatezza. Tu hai notato, studiando la biografia, che Paul Klee non era affatto un artista tormentato, un artista maledetto, come invece frequentissimamente nella prima parte del Novecento incontriamo. Era un uomo determinato con una grandissima aspirazione alla realizzazione di sé, alla perfezione. Io i miei commenti psicologici li farò dopo, ma è importante che racconti a chi ci sta ascoltando questo titolo. Perché descrive così bene questo titolo? Perché descrive così bene Paul Klee? È una cosa che mi ha colpito da ragazzo quando per la prima volta, diciamo, ho letto i diari e poi ho visto un pochino la biografia di Klee. Appunto, la vita di quest'uomo che, tranne un brevissimo periodo, subito, quando esce, diciamo, dalla scuola e fa tre anni a Monaco, all'Accademia, dove lì fa una vita abbastanza sregolata, un po' boimienne e fa anche dei disastri che poi magari poi, diciamo, mette incinta una sedicenne e nel diario ne parla come se non fosse un incidente assolutamente banale, ci dedica pochissime righe, ma per il resto Paul Klee, in tutta la sua storia, si capisce subito che è uno che si sta costruendo in una maniera molto forte e molto disciplinata, pur essendo seduto, diciamo, su un vulcano creativo che continua a, una lava che continua, diciamo, a gettare getti di lava e che lui in qualche modo cerca di ordinare e alle quali dar forma. Lui, al contrario di molti, non è stato l'unico artista metodico, ovviamente, ce ne sono stati tanti altri che hanno avuto, qui ce n'è uno, di Marco Tirelli che è un metodico anche lui, ma però lo fa con una determinazione, con una forza, con una disciplina che io francamente non ho visto in nessun altro, non solo, sembra totalmente privo di quell'egocentrismo, di quell'egolatrismo che spesso abita agli artisti, è un uomo che si dedica alla famiglia da quel che si sa il monogamo, comunque ha un'attenzione per la moglie costante, continua, magari non è un amore, diciamo, di quelli appassionatissimi, quello poi, e questo perché appunto lui in qualche modo si sente sempre inafferrabile in questo mondo, è stato un padre eccezionale, allora se voi pensate a quanti figli di geni hanno vissuto delle vite terribili, distrutti diciamo da questo macigno paterno o materno che in qualche modo li sopravvanzava, gli rendeva impossibile la vita, lui ha avuto una cura per Felix, assoluta, gli ha costruito i teatrini da piccolo, le marionette, lo portava con sé a giocare, quando è andato a insegnare al Bauhaus, l'ha portato al Bauhaus, è stato il giovane più, lo studente più giovane del Bauhaus e l'ha instradato a non fare il pittore, malgrado dicesse che era molto bravo perché dice saresti schiacciato da me, insomma in qualche modo è stato un padre. Racconti che faceva le pappe in cucina e intanto insegnava, anche perché lui era sia destro, cioè disegnava con la sinistra, era leonardiano, era capace di disegnare e scrivere contemporaneamente con la destra e con la sinistra e poi magari ne parliamo e consigliava ai suoi studenti di usare la sinistra per dimenticare il già imparato del disegno, per ritrovare la la forza e la freschezza della linea, della sua energia, la sua potenza, la sua vibrazione. Ecco, questo ritratto di artista che non deve essere per forza appunto un cannibale non solo visivo come Picasso che ha diciamo distrutto tante donne o un disperato, un disagiato come Van Gogh, come un isolato, un ossessivo come io, isolato come Cézanne, genio assoluto, ma in qualche modo ha vissuto una vita separata. Ecco, la possibilità per l'arte di avere anche dei personaggi che vivano in modo apparentemente normale, questo mi ha colpito molto. Quindi c'è qualche cosa di rassicurante in questo approccio, soprattutto dopo che tu hai parlato di Rotko, hai parlato di Pollack, quindi qui sei arrivato a una dimensione diciamo di biografia rassicurante, ma se vogliamo continuare a esplorare il tema, diciamo così, della precisione, dell'ossessività, passatemi l'uso di questi termini un po' della mia professione, ma lui è un catalogatore. Un catalogatore nato. Il diario ci consente, qui voglio leggerti, tu dici è un documento eccezionale, un sismografo precisissimo che ha registrato ogni scossa creativa dell'artista. Conosciamo i suoi periodi meno fecondi e quello invece più fertile che è il 39. È il penultimo anno di vita, la malattia che già lo affatica e la guerra che lo circonda non lo frenano. Il catalogo riporta ben 1.253 opere, sono soprattutto disegni, ma vuol dire che il 13% di tutta la sua produzione si concentra in questo anno fatidico. Alla fine della sua vita conta 733 quadri su tavola, 3.197 fogli a colori, 4.877 disegni, 54 acqueforti, 38 litografie, 3 xilografie, 16 cusculture, in tutto 8.918 opere, eccetera, eccetera. È la cifra della sua esistenza. Perché noi questi numeri così precisi li sappiamo, non perché li hanno poi catalogati i musei e gli espositori, ma perché lui teneva una contabilità. Lui aveva questi quaderni, diciamo, dal contabile in cui proprio metteva il titolo dell'opera, le dimensioni del lavoro, la carta su cui era stata fatta, in alcuni casi si era stato venduto a chi e li teneva addirittura in doppia copia perché evidentemente non si fidava come un ragioniere da questo punto di vista. Ieri parlando con Giovanna Melandri al telefono, perché l'ho chiamata appunto perché stava male, mi ha detto, l'ha descritto con un binomio secondo me bellissimo, infelice, mistico e contabile. Ecco, lui era esattamente questo, un mistico e un contabile. E la cosa stranissima è che su alcuni di questi lavori poi c'era scritto SK, che voleva dire Sonderclass, cioè erano lavori di una categoria in qualche modo speciale, superiore, che erano destinati alla famiglia, agli amici, cioè addirittura c'aveva le stellette che metteva le stelline diciamo di gradimento del lavoro. In questa sua grandissima competenza a tenere in equilibrio le cose, che non era però monotonia o ripetizione, perché un'altra cosa che ci insegni Gregorio è che nello stesso anno lui produce quadri e disegni molto diversi tra di loro, con degli stili, dei movimenti, dei gesti pittorici molto diversi, però sempre un po' rimanendo, insomma ronzando intorno al mio vocabolario, tu dici una cosa che mi ha molto colpito, la sua capacità anche esistenziale di tenere in equilibrio le cose gli consente anche di tenere in equilibrio il senex e il puer. Cioè in questo profilo psicologico di Paul Klee esiste sia la dimensione diciamo più depressiva, più compiuta e decisamente malinconica del senex, ma anche esiste invece la mercurialità, la creatività, l'improvvisazione, a volte quasi la furia creativa che è mercuriale, che è del puer. Ecco, come la possiamo leggere nella sua, diciamo così, dal punto di vista visivo la coesistenza di questi due mondi? Bella domanda. Però, francamente, ci sono una serie di lavori in cui è facile vedere questa cosa qui, perché lui, e ne parla molto Pierre Boulet nel libro Il Paese Fertile che dedica a Paul Klee e che gli è stato, lui ha letto Klee perché gli è stato consigliato da Shostakovich perché gli ha detto guarda, leggilo, è il maggior maestro di composizione, di composizione musicale e lui spessissimo inventa delle regole formative, per esempio i famosi quadrati magici lo possiamo vedere, è un quadrato magico, ce ne abbiamo uno è un po' più avanti, più o meno a metà è una scacchiera colorata, una scacchiera stratta colorata non questa, questa è la cupola rossa e la cupola bianca esatto, questo è il suo questo è lì dove proprio lui si scatena e ecco ecco lui si dà una regola, diciamo, lavoro con una scacchiera questa scacchiera è all'interno di questa regola che è la scacchiera e l'anima con appunto rettangoli regolari oppure irregolari con un fondo materico oppure solamente acquarellato con colori, questo lavoro si chiama suono antico e si sente anche qui, diciamo, proprio la musicalità del lavoro sembra proprio che emetta un suono oppure lavora solamente con linee parallele e però ogni tanto rompe lo schema che si è dato ecco, oppure fa dei lavori, diciamo, in cui non so, tutte quante le linee penso all'uccello Peppe che sta un pochino più avanti mi pare, se va un pochino più avanti lo vediamo questo è il quadro, per esempio, i lavori con le linee parallele non so se avete presente che, non questo, separazione di sera no, un po' più avanti questo è un lavoro bellissimo strada principale, strada secondaria un po' più avanti, vediamo se lo troviamo non c'è vabbè, è un lavoro che si chiama l'uccello Peppe insomma, comunque, in cui tutte quante le linee portanti del disegno hanno tutte quante delle piccole come steli vibratili intorno che le contrassegnano e ne aumentano, diciamo, la vibrazione nello spazio oppure lavora solamente con i puntini ecco, diciamo, lui si dà delle regole le forma in maniera assolutamente fantasiosa e creativa e le viola ed è questa la sua appunto, diciamo, il puer all'interno della regola del Senex e che è la cosa che piaceva molto a Pierre Boulet dicendo che l'importante appunto della composizione è non essere seduti non partire sapendo già quello che si troverà questa è una cosa che Claire ripete molte volte non ci sono formule non ci sono frasi, vie semplici d'altronde, appunto, lui è uno che stranamente è un grandissimo teorico è un grandissimo lettore scrive moltissimo di teoria le sue lezioni al Bauhaus che sintetizza in dei fogli in degli scritti che ci sono rimasti sono, diciamo, una grandissima lezione per come dire, decodificare il segno però spesso si libera completamente di tutto ciò che lui stesso dice e fa e fa altro tranquillamente con una libertà quasi scandalosa straordinaria che è raro vedere se adesso vogliamo fare vedere quella serie dei disegni del 25 dei lavori del 25 se partiamo da l'uccello il pesce d'oro c'è quel quadro che c'ha il pesce d'oro perché vi do un esempio di questa assoluta libertà spesso gli artisti vengono se me lo trovi spesso gli artisti vengono catalogati per periodi ovviamente gli artisti cambiano modo di dipingere nel corso del tempo crescono e si evolvono ecco allora invece Paul Klee usa diversissimi codici espressivi nello stesso momento guardate questo lavoro diciamo è un classico Klee dove c'è il mare c'è questa illuminazione centrale del pesce d'oro gli altri che si spostano le onde eccetera e questo diciamo lo riconosciamo come andiamo avanti eccesso andiamo avanti procediamo con suono antico poi nello stesso periodo fa una serie di lavori che vengono chiamati quadrati magici perché la citazione diciamo il quadrato magico famoso quello che sta nella melancolia di Durer eccetera eccetera perché lui stava in questo periodo era al Bauhaus dove c'era un pochino di influenza mondraniana di De Stille sul lavoro del costruttivismo e quindi fa molti di questi lavori regolari poi andiamo avanti poi ci sono i lavori diciamo per bande orizzontali anche questa è una serie ce n'è uno famosissimo non ce l'abbiamo qui che è separazione di sera dove ci sono due frecce che si incontrano ecco poi fa questo questo mi pare che si chiama attraversamento di un torrente che è un lavoro incredibile perché c'è un gesto c'è una materia sotto c'è una furia c'è un vortice c'è un torrente che si attorciglia su se stesso ed è una cosa diciamo di sorprendente se andiamo avanti ecco qui abbiamo un disegno che richiama i disegni satirici dell'inizio che lui faceva in bianco e nero assolutamente figurativo in cui diciamo cerca di fare un ritratto psicologico andiamo avanti ecco questo è l'uccello Peppe quello che vi dicevo con le linee con tutte quante le lineette con dei vibratili che contornano e che in qualche modo espandono la presenza sia dei fiori delle piante nello spazio cioè si diventano una vibrazione di luce nello spazio andiamo avanti ecco qui usa l'aerografo e addirittura usa un lichene vero appiccicato sulla carta oppure qui fa i mosaici lavora come costruendo dei tasselli di mosaici dei tasselli di mosaici questo è un volto andiamo avanti ecco poi c'è un disegno questa è la casa dell'opera che sono infiniti disegni le opere dedicate al teatro di Clé e qui proprio abbiamo un lavoro lineare elegantissimo leggero che sembra una scena che andrebbe bene per per non so per per sembra il flauto magico esatto andiamo avanti contemporaneamente un lavoro di assoluta libertà questo è l'uccello migratore le linee vanno veloci leggere irregolari poi qui abbiamo va bene sì ma insomma l'avete visto avete capito che cosa intendo andiamo avanti questo diciamo invece è uno dei classi con lavori con la prospettiva multipla con un fondo molto lavorato con come se la matita facessero ecco questo come se i segni facessero diciamo un viaggio all'interno del quadro poi magari della matita che passeggia parliamo perché è bella come definizione che dà Clé del suo lavoro e poi quest'ultimo quadro lui fa un viaggio l'ultimo cambiamo ecco lui fa un viaggio in Sicilia e fa quattro quadri così questo veramente io dico il miracolo di Clé è che malgrado questa enorme differenza pensate che tutti questi lavori sono stati fatti fra la fine del 24 e del 25 questi e infiniti altri questo per dire come tutti i linguaggi fossero assolutamente interscambiabili e sono però tutti uno lo rivede e dice questo è Clé è inafferrabile ma inconfondibile qui potresti non capire che è Clé però è però è una dimostrazione di libertà c'è qualcosa di Matisse c'è qualcosa di Matisse c'è cosa c'è di Matisse ed è l'altro tema su cui ti volevo un po' intervistare il Sud perché per Clé è così importante il Sud e già che ci sono su questa cosa geografica ti dico invece una mia associazione quando io ho visto quel grafico prima è passato velocemente quel disegno in cui lui spiega i meccanismi della vista facciamo vedere se riusciamo a tornarci su è il disegno che mostra il meccanismo dello sguardo è come se fosse una specie di occhio con le scritte in tedesco la prima associazione che io ho avuto è il disegno che fa Freud gli anni sono più o meno gli stessi per spiegare io è superio e la struttura della psiche la sua topografia psichica ha delle ha delle somiglianze e anche l'altra cosa che ho pensato è che appunto mentre tutti noi sappiamo quanto Jung fosse stato inghiottito nel vulcano Freud ha individuato che c'era un vulcano però insomma lo ha descritto standosene abbastanza al di qua come se Freud fosse più il mondo della nevrosi e Jung fosse più il mondo della psicosi ecco Klee in questo è molto freudiano nel senso che spazia riconosce individua i centri diciamo così più tellurici della visione e al tempo stesso però li riesce a tenere sotto controllo perché ha anche una teoria forte è un fortissimo teorico anche in questo c'è appunto la convivenza di Senex e Puer lui è un fortissimo teorico e cerca in continuazione di dare una teoria a a quel che sta facendo d'altronde è anche il clima dell'epoca perché moltissimi artisti creando linguaggi nuovi cercano di codificarli di capire dove stanno andando e che cosa stanno facendo per cui lui in questo lui se ne occupa moltissimo scrive moltissimo legge moltissimo se torniamo a quell'occhio perché quello diciamo è la teoria della visione di Klee lui intanto dice una cosa ovviamente c'è la frase famosissima non si tratta di copiare il visibile ma di dare forma all'invisibile ma e poi magari andiamo anche su quello ma lui qui dice che cos'è la visione intanto lui dice una cosa prima che si tratta della relazione fra il soggetto e l'oggetto quindi noi non non riproduciamo l'oggetto ma in qualche modo solamente la relazione già questo diciamo un pensiero molto avanzato per l'epoca e qui lui dice sostanzialmente appunto che c'è l'oggetto e l'io cioè vedete auge ich e l'io che guarda occhio occhio e io esattamente e l'altro invece è il tu quindi l'altro l'oggetto che si guarda la linea orizzontale è la visione retinica sostanzialmente cioè ciò che si vede semplicemente però lui dice poi ci sono altre due vie di visione che sono una è quella della terra erde sotto che è una visione è come se in questa comprensione di ciò che si vede si avesse il sentimento della della comune appartenenza alla terra della staticità della gravità e l'altro approccio è quello della invece quello aereo e quello cosmico che passa diciamo per il velte per il mondo infatti scrive dinamica e statica esatto che è una visione invece di appunto di una di un'appartenenza come posso dire aerea cosmica alla cosa che si guarda sostanzialmente è il processo della visione per l'artista è un processo di fusione con ciò che si vede l'abbattimento dello schema dello schermo di uno schermo anche di abitudine alla visione eccetera e quindi è un processo di di fusione non saprei dirlo meglio e quindi di abbattimento anche diciamo delle barriere dell'io non so che dici tu come in quanto io sono rimasto colpitissimo perché appunto senza nemmeno cambiare i termini che chiaramente insomma è una terminologia di un artista della visione però potrebbe benissimo essere uno schema che descrive la relazione appunto io tu la relazione con l'altro è un modello è un'idea della visione e della possibilità di catturare appunto l'invisibile non di riprodurre il visibile molto empatica mi verrebbe da dire quasi fino a una fusionalità che però è una fusionalità che non impazzisce è una fusionalità che rimane perfettamente governata dentro un un perimetro che è il Welt che è il mondo e che mostra esattamente insomma quello che stiamo dicendo credo dall'inizio di questo genio e regolatezza cioè la capacità di riconoscere delle forme delle necessità quindi anche delle discipline e trovare poi il modo attraverso una specie di identificazione di slancio di entrare in esse stabilendo però un dialogo il quadro bellissimo della dell'abete dell'abete sì dell'abete sì che tu descrivi e ce lo fai gustare in modo veramente inedito se riusciamo a vederlo perché è un albero un abete se riesci a ritorna un po' quello che eccolo ritorna quello che stiamo dicendo cioè lui capisce immediatamente che chi vede questo quadro ha bisogno di riconoscere le linee verticali una esce addirittura da quel limite che si era assegnato quella linea azzurra lì sopra e poi ci sono le linee invece orizzontali che sono i rami quelli più in alto sono inclinati il puntinismo sono le foglie e il cielo che appunto diffondono e si fondono l'uno nell'altro ma senza lo sgomento di una fusione diciamo catastrofica è una compenetrazione estremamente serena ma che al tempo stesso ti dà l'idea che questi rami potrebbero continuare a crescere cioè la bellezza di questo quadro come tu ci insegni a guardarlo è vedere la dinamica della creazione e del movimento sia dell'oggetto ritratto quindi un albero che non può che continuare a crescere sia anche però di questo invito alla visione che ti dà un confine e ti spinge a oltrepassarlo queste sono le sue grandi caratteristiche secondo me e aggiungendo a quello che dici una delle ossessioni di Clé era proprio l'idea della genesi lui diceva la genesi non è finita il compito dell'artista è continuare la genesi proseguire la genesi quindi un compito titanico cioè aveva un'altissima considerazione di sé il che rende il suo equilibrio ancora più stupefacente perché di solito chi ha un'altissima considerazione di sé è difficilmente equilibrato e quindi il compito dell'artista è continuare la genesi quindi non chiedetevi perché io faccio delle cose che non sono riconoscibili perché io sto creando un altro dei mondi impossibili e quindi ciò che mi interessa è la formazione la figurazione e non la figura non la forma lui addirittura arriva a dire la figurazione è buona la forma è cattiva nel senso ciò che è chiuso che è finito che non ha più in sé il movimento della vita il movimento della genesi che sta proseguendo non va bene è scontato è qualcosa che non ha senso mi interessa la figura che si fa figura il processo del crescere il processo della vita lui era innamorato era della natura era conosceva i nomi di tutte le piante le insegnava a Felix parla Will Groman che è stato il suo primo biografo è un amico e anche un piccolo collezionista diceva che Paul Klee parlava anche con i serpenti per dire diciamo in che modo si rivolgeva alla natura e il suo studio era pieno di elementi naturali conchiglie foglie che delle volte alle quali si ispirava ma se uno sfoglia diciamo l'album dei disegni di Klee vede che sono proprio intrisi di forme di natura che si trasformano diventano altro ma in cui c'è questa vita e allora tornando a un tema che avevamo lasciato in sospeso ma che è importantissimo il sud l'abbiamo lasciato lì l'abbiamo lasciato lì perché poi nella la passione di raccontare Klee volevo dirti che l'altra grande diciamo somiglianza con Freud è che Freud ovviamente insomma verso sud lui scrive nel 1900 questa bellissima lettera alla moglie Marta e dice il nostro cuore volge a sud perché non possiamo vivere in una terra dove crescono sempre i fichi lui ha un rapporto poi molto tormentato con la discesa a Roma cerca tante volte di arrivare a Roma non riesce poi finalmente riesce torna molte volte torna sette volte e poi però Pompei Napoli Agrigento e poi Atene ecco in comune hanno questa specie di di magnete verso il meridione del mondo cosa cosa vuol dire per te allora lui diciamo fa due viaggi al sud fondamentali ma lui però nel diario lui appena si fidanza con Lili poi volendo vorrei parlare della donna ideale sì delle donne ma lui si fidanza con Lili dopo un lungo corteggiamento finalmente Lili cede e lui a quel punto prende parte per l'Italia è quello il primo viaggio che fa ed è il viaggio più lungo che fa perché dura otto mesi sette mesi sette otto mesi e ne torna schiacciato distrutto perché ha visto un'arte troppo bella troppo potente e in qualche modo non si sente più all'altezza per cui si rifugia nel nel bianco e nero dice devo rifare tutto da capo devo ricominciare da zero è come se dovessi rimparare tutto e questo è il primo viaggio dopodiché ricomincia diciamo poi riscopre il colore va bene qualche anno dopo parte per Tunisi si per Tunisi e insieme ad altri due amici pittori lì ho titolato quel capitolo diventare Paul Klee lì lui incontra la luce la luce del del Mediterraneo come come l'aveva incontrata anche Matisse quando va quando va al sud come la incontrano tanti che vanno ma è lì che quel processo al quale lui anela e cioè la fusione lui lo dice proprio di io arte e natura avviene lì proprio è un matrimonio mistico in qualche modo lui lì la descrive è una frase molto nota però la voglio leggere perché è veramente diciamo di una potenza espressiva dove sta aspetta fatemela trovare se la trovi prima tu la leggi tu scusate vabbè la dico a memoria e questo è il momento felice poso il pennello ecco io e il colore siamo tutt'uno io sono pittore questo è il momento in cui Paul Klee diventerà ancora Paul Klee nel tempo però sente di aver trovato il nocciolo quando lui dice sono più vicino al cuore della creazione ma ancora non abbastanza sente di stare là in quel posto sente che lui la come dire lo schermo fra lui e il mondo è finito infatti il giorno prima stava dipingendo un paesaggio serale e non dice dipingo la luna dice io sono la luna questa luna resterà sempre dentro di me è questo processo che fa Klee il pittore che è e che gli regala una sapienza di visione di colore che non ci aveva che prima non aveva e da allora noi vedremo sempre questa sua capacità di muovere con ci sono infinite influenze ovviamente nel suo costruire la figura c'è Cezanne c'è Delaunay che lui aveva tradotto eccetera però riesce a darci un mondo con queste velature di colore che vibrano nello spazio e questo è il sud dopodiché poi c'era anche non si sa se è una leggenda no che la sua famiglia venisse anche dal sud che ci fosse diciamo avesse delle lontane origini arabe lui quando arriva a Tunis si dice è la patria si chiede addirittura se è la patria e a proposito appunto di questo tema della Genesi mi è caduto l'occhio su questo punto che ha a che fare molto col suo viaggio al sud quando scrive dunque il mezzo non è più la linea nera bensì quella bianca il fondo non è luce ma tenebra che l'energia abbia la facoltà di rischiarare corrisponde infatti alle leggi della natura il motto è dunque ora sia fatta luce così mi avvio lentamente verso il nuovo mondo delle tonalità lui ha questa identificazione col colore esattamente questa cosa che stai leggendo in realtà è quando Cle riesce a uscire comincia a uscire dalla bastonata lui dice così il viaggio in Italia è stata una bastonata soprattutto il suo problema era Michelangelo del quale vedeva la potenza ma non riusciva a parlarci è come se non riuscisse a stabilire un contatto con Michelangelo lui dice la 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 pietà è fredda dice è altrettanto sono fredde le cappelle mi dice e poi fa un'altra azione perché è un critico diciamo è molto autonomo nel pensiero e dice sono fredde volutamente non credo cioè lui critica anche Michelangelo con grandissima libertà e gli preferisce le sculture medievali gli preferisce l'ingenuità gli preferisce perché cosa gli preferisce gli preferisce la forza anche l'imperfezione che poi sarà caratteristica del suo non finito che verrà molto dopo perché molti lavori di Clay proprio per quel motivo che dicevamo prima cioè della della volontà di dare la vita di dare forma di dare forma alla vita sono danno una sensazione di non finito è peccato che lui non abbia visto i prigioni di Michelangelo che ancora non erano esposti all'accademia perché lì avrebbe lì sarebbe entrato nel mondo di Michelangelo però mi sono perso questa tua suggestione sui prigioni mi portava direttamente agli angeli perché c'è qualche cosa che lega l'incompiuto però prima ci eravamo ripromessi tu che ci raccontavi che cos'è la matita che passeggia ah sì e poi che parliamo di della donna ideale e quando Greenberg dice quella cosa Greenberg è il critico d'arte che in qualche modo ha lanciato Pollock in America è stato il suo forse senso di lui Pollock non sarebbe diventato Pollock però questo non lo possiamo sapere e dice quella cosa quando Picasso vede un vede un quadro vede un muro Clay invece vede una pagina come se scrivesse e lui dice una cosa bellissima lo scrive a Lily oggi la mia matita ha fatto delle belle passeggiate perché è il suo modo di stare sulla carta sostanzialmente quello è come uno che passeggia e vede che mondo gli sta nascendo fra le dita lui addirittura c'è una pagina molto bella che scrive in cui descrive addirittura proprio decodifica tutti i segni descrive una passeggiata della matita e decodifica tutti quanti i segni attraverso un torrente linee ondulate vado indietro frecce insomma è come se stabilisse tutta quanta una un dizionario dei suoi non li chiamo pictogrammi li chiamerei non geroglifici ovviamente però in qualche modo lui ha questa idea di segno semplice che riesce a creare un mondo geroglifici in quanto sono scritture e scrittura scritture e immagini esattamente pittogrammi d'altronde lui mette poi le lettere disegna con le lettere disegna c'è Villa Rosa no? sì la Villa R ce l'abbiamo da qualche parte se passa la vedete bellissima poi ci sono quando lui ricostruisce diciamo mette in scena le poesie giapponesi cinesi scusate in cui proprio ce n'è una ma insomma non è così importante vedere la ma sostanzialmente e lui crea anche con la scrittura perché questa è un'altra cosa fantastica che fa e che lui quando era quando finisce la scuola deve decidere cosa deve diventare lui è talmente dotato in tutto che dice cosa farò il musicista il poeta o il pittore e quello che a me mi ha colpito è il ragionamento che fa per fare la sua scelta che probabilmente era inevitabile comunque ed è e dice no il musicista no perché sarei un epigono perché lui è convinto che la musica ha dato il massimo nell'ottocento Villa Rosa Villa R esatto il poeta no perché non è un mestiere non mi avrebbe non mi avrebbe permesso di vivere quindi farò il pittore ecco vedi è un ragionamento da Senex sostanzialmente da contabile però lui poi nella sua pittura riesce a mettere fa una pittura musicale per definizione e riesce a mettere anche la scrittura e la mette anche nei titoli perché i titoli fanno parte dell'opera di Glee quella linea che c'è sotto sotto il titolo a parte spesso sono titoli di una poesia di un lirismo assoluto ma fanno parte dell'opera perché gli creano intorno un secondo spazio mentale che la inquadra e la incornicia e tu ne elenchi un po' a pagina 153 spesso sono frasi ad alta densità poetica qualche esempio tappeto di ricordi armonia della flora nordica controcorrente durante la luna piena dolore precoce flora cosmica il monte del gatto sacro messaggio dello spirito dell'aria morte per amore dell'usignolo persiano paesaggio macchiato un marinaio sente la sua fine e così via non è frequente trovare una ci sono pittori questo lo sai senz'altro meglio di me che hanno magari intitolato alcuni quadri in modo molto particolare ma lui invece anche qui in modo seriale però al tempo stesso originalissimo vuole dare una connotazione un titolo a ogni opera è una ricerca continua fortissima l'opera non nasce dal titolo il titolo perché se no sarebbe diciamo una didascalia figurativa a un verso ma viene messo dopo e però gli aggiunge sempre qualcosa in più è come se fosse l'ultimo tocco di pennello sul quadro bene ora ovviamente l'argomento che rimane sono gli angeli e il perché per esempio Walter Benjamin ma anche Heidegger e molti filosofi hanno amato intensamente fino a farne quasi una ragione d'opera come Benjamin gli angeli e in particolare l'angelus novus di Clay però mi sa che tu volevi parlare prima della donna invisibile quindi teniamo gli angeli per la fine e raccontaci no ma sei tu che me la devi raccontare allora succede questo Clay mentre sta a Monaco Clay vive una vita diciamo che non è da Clay una vita da un po' bemien molte serate divertenti molto molto alcol molte ragazze molte modelle appunto fra cui appunto c'è questa Censi con la con la quale che a un certo punto è incinta e lui fa solamente quando poi lei abortisce dice adesso sono diventato bravo sono un bravo musicista un bravo pittore un bravo disegnatore una cosa non sono più non sono più padre e poi va avanti tranquillamente senza quindi però lui sente che c'è qualcosa che non va sente che si sta perdendo e racconta una lotta interiore a questo punto si inventa una donna ideale Evelina alla quale dedica una lunga una lunghissima poesia e dice proprio Evelina lui sta corteggiando Lili che ancora non ha deciso se vuole stare con lui o no però però è Evelina che alla quale diciamo lui si appende per uscire fuori da questo disordine della vita perché ha un'aspirazione spirituale forte alta eccetera però c'è anche delle grandi tentazioni è un uomo diviso è un giovane diviso a quel tempo e quindi questa costruzione diciamo di donna ideale è quella che non è è quella che lo tira fuori che gli dà la forza per poi diventare l'uomo che vuole diventare e l'altra cosa che mi ha colpito molto è che lui dice sempre nel diario l'unica cosa buona che ho fatto in quest'anno è la poesia di Evelina cioè la prima grande opera che Clé riconosce a se stesso è una poesia ed è questo lavoro di autocostruzione adesso la parola a te no perché Evelina mi sembra di capire è questo sapete quando i bambini inventano l'amico immaginario no? ecco però lui invece ha diciamo verso i 30 anni inventa una prima prima dei 30 anni sì 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 no 23 anni sì quando erano il triennio alla fine del triennio perché poi dura un po' finché il rapporto con Lili si solidifica e allora cancella l'amante immaginaria allora chiaramente lui è abitato da due principi in conflitto che sono una fortissima attrazione per la vita nelle sue manifestazioni anche più forti e più passionali è una disciplina che gli consente e lo direi lo obbliga a raffreddare tutto io detesto fare applicare le categorie cliniche diagnostiche alle persone che non che non conosco ma che non vedo in studio quindi è una cosa da prendere molto con le pinze però è molto paradigmatica di che cosa è la struttura di un ossessiva con la capacità di creare cioè è il bisogno di mettere una gabbia una cintura di sicurezza attorno alle cose che altrimenti ti trascinerebbero via tra cui anche l'aggressività che sarebbe un sottotema molto interessante su Clay perché nei diari ci sono alcuni aspetti in cui emergono delle quote molto aggressive ma lui ha da una parte una disciplina e probabilmente un'interiorizzazione di quello che deve essere di quello che deve fare e dall'altra parte una paura tale di finire divorato dalla passione per cui costruisce queste gabbie e quindi Evelina rappresenta il suo capolavoro cioè poter amare senza cadere mi verrebbe da dire e finalmente riesce a creare diciamo la la perfezione della sua famiglia padre amorevolissimo una compagna per tutta la vita fedeltà però sicuramente con diciamo così una una motivazione un po' doveristica certo perché anche io credo non voleva essere disturbato da quelle cose perché doveva dedicarsi alle altre cioè a guardare la natura a fondersi nella natura e a diventare in qualche modo il 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 Deus Ex Machina insomma il creator e in questo senso però tanto di cappello a una biografia che riesce a tenere insieme delle spinte narcisistiche così forti e al tempo stesso una consapevolezza dove sono i suoi limiti umani alla fine risulta che il figlio che poi si è occupato di tutta la sua eredità dei suoi diari ha scritto molto non è come quei figli che hanno avuto il padre genio lo ammirano e lo odiano ha un grande amore Felix per il suo padre no? sì e il rapporto anche con la moglie emerge come un rapporto diciamo così di una grande serenità poi non so quanto briosa però sicuramente diciamo così molto amichevole sicuramente ecco amichevole però è bello vedere questa capacità di dosaggio e di conoscenza di sé e di competenza diciamo così delle capacità di spiccare il volo e anche invece dove deve ritirarsi in questo senso è una figura sì lui si crea appunto una beatrice personale una una specie di beatrice alla quale appendersi per andare che gestisci tu che 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 ti tiene dentro e fuori che ti tiene dentro e fuori ecco forse su questa idea del dentro e fuori dell'essere sospeso inafferrabile arriviamo alla conclusione alla conclusione che è sia in parte la conclusione della biografia sia in parte anche la conclusione di un percorso questi angeli gli angeli no tu parlavi di gli angeli racconta racconta quanti sono quante serie sono io vado a cercare i titoli di questi angeli che sono meravigliosi perché uno pensa agli angeli appunto pensa a delle creature appunto pensa a Rilke no gli angeli che non anche se io gridassi chi degli angeli nella schia chi nella sfiera degli angeli mi ascolterebbe quindi degli angeli che se anche si avvicinassero a te con la loro bellezza e con la loro potenza nell'abbraccio ti stritolerebbero ecco questi sono gli angeli di Rilkeani gli angeli di Paul Klee sono zoppicanti sono zoppicanti sono molto più umani sono meravigliosi cioè sono hanno dei nomi meravigliosi spesso si chiamano non ancora non ancora angeli cioè sono veramente non sono appunto come quelli di Lirke che dice sostanzialmente sono tremendi perché sono le porte di un altro mondo che è talmente potente da essere appunto tremente spiazzante ma sono invece se ci fermiamo un attimo scusate su questa su questa immagine perché questo è il primo angelo e questo è il secondo se vi fermate fermiamoci un attimo torniamo indietro sul primo questo siamo molto tempo prima e subito prima del viaggio a Tunisi dove lui diventa Klee c'è questo che è Angelo offre ciò che è desiderato però vedete che c'è intanto sono schizzati in maniera proprio quasi scheletrica eccetera e poi c'è una linea che separa l'angelo dall'uomo inginucchiato che è evidentemente Klee e nel lavoro successivo se giriamo immagine che avviene dopo il viaggio a Tunisi e l'angelo porta ciò che è desiderato ma intanto guardate è un angelo in carne è androgino diciamo femminile addirittura una giarrettiera eccetera porta un vassoio con la colazione ha un cuore e poi è bello sotto il vassoio c'è un cerchio quindi un segno di compiutezza con dentro la firma di Klee cioè questo lavoro è un lavoro in cui Klee dice io sono diventato Klee è un lavoro di una felicità assoluta perché c'è questo angelo femminile che la mattina arriva e gli porta la colazione gli versa addirittura il tè già cade dall'avvastroio cioè gli sta versando il lavoro che deve fare questo per dire che ogni tanto nelle frasi importanti della sua vita Klee gli angeli arrivano come poi dopo ci sarà l'angelo Snow ma gli angeli della fine lui è malato e in esilio anche se è in patria perché sta a Berna ma ci è dovuto andare perché è arrivato il nazismo e gli ha sequestrato dei quadri forse lo stava per arrestare lo ha chiamato un pazzo ebreo hanno fatto un attacco terribile come a tutta quanta diciamo gli artisti dell'avanguardia quindi lui va a Berna e lì si sente un po' in esilio e arriva anche la malattia e negli ultimi anni lui sente la morte che arriva infatti in molti quadri ci sono anche angeli della morte e c'è il tamburo tremendo che suona e sembra appunto suonare una marcia funebre però c'è questa consolazione di questi angeli che sono leggeri eterei un leggero tratto di matita senza pentimenti anche nella sua imperfezione che forma tutta quanta la figura e spesso sono angeli incompiuti come se lui sentisse un percorso diciamo che gli stava indicando una strada cioè di non ancora ma forse dopo sì forse dopo diciamo c'è il passaggio e se la so anche perché contemporaneamente lui fa un'altra serie di disegni con la stessa forma cioè dei fogli a quattro e a matita e li chiama eidola scritto proprio in greco e questi eidola sono anche questi hanno tutti quanti lo stesso titolo che cioè già coppia già già pianista già già cosa addirittura non si sa che cosa erano cioè tutti quanti sono delle cose che erano stati e che non sono più già si intende in questo senso qui è proprio una forma di congedo dalla vita umana dalla dalla forma quindi dal dall'idolo dalla dalla forma esterna che ognuno di noi ha preso e ecco diciamo lui in questo momento della in cui sente la fine arrivare si congede dal mondo con questo doppio passo dico addio mi preparo a ciò che sarà lui ha sempre cercato di tenere tutto insieme è una delle ossessioni di qualcuno la la terra e il cielo il buono e il cattivo lui lo dice voglio tenere insieme il bene e il male io sono oltre perché lui si ripeto ha una grandissima opinione di sé ha una grandissima sensazione se spesso c'è Dio io uguale Dio nei suoi nei suoi diari però ha a questo senso di poter tenere tutto insieme tant'è che anche nella sua pittura appunto astrazione figurazione non sente più confini fra il mondo esterno e il mondo interno e quindi sembra che questo diciamo avvio alla fine è un avvio in realtà è un congetto sereno un congetto di libertà questo essere già e però non ancora le ultime pagine del libro di Gregorio Botta lo dico davvero fuori di ogni retorica sono mi hanno commosso sono è entrato in questa diciamo così fase finale della vita di Cle in questo rapporto tra la serie degli angeli le serie degli idola con una leggerezza una sensibilità e una scrittura davvero commoventi sono bellissime queste ultime pagine e credo che su queste dobbiamo concludere perché davvero gli spunti che questo libro ci ha dato il tuo racconto su Paul Klee è davvero ricchissimo appassionante se c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa a Gregorio o dire qualche cosa sulla sua visione di Paul Klee che è un'immagine che ci accompagna sempre il suo angelo smemorato pensate che è il più famoso di tutti c'è qualcuno che vuole dire qualcosa se Gregorio vuole no li lasciamo li abbiamo li lasciamo grazie grazie Gregorio grazie Paul Klee Genio e Regolatezza la terza